Ciao ragazzi sono Mistix, audio video production, oggi andremo a parlare di lenti vintage Allora voglio parlarvi un po' di lenti vintage e in generale anche di lenti perché ho visto che molti comunque mi avete mandato dei messaggi privati e mi avete chiesto qualche video in più riguardo anche il reparto video e non solo audio quindi sto cercando di portare dei contenuti diversi dal solito su questo canale ovviamente il miglior modo per supportarmi è iscrivervi al canale, quindi questo canale youtube iscrivervi ai canali facebook e instagram che vedete qua in soffroimpressione e in generale di seguirmi e se potete anche comprare gli oggetti che io vi suggerisco perché i link che utilizzo sono tutti i link di affiliazione quindi mi arriva una piccolissima percentuale di commissione, a voi invece non cambia assolutamente nulla prima di iniziare vi dico che sto utilizzando il microfono Loud & Audio LS208 della serie Synergy un microfono molto molto interessante, molto particolare, molto adatto per le voci da vicino, per i parlati quindi anche in questo senso è come se fosse un continuo test anche per voi se siete interessati ai microfoni ma l'oggetto di oggi sono le lenti vintage allora perché parlo di lenti vintage e come ne sono venuto a conoscenza e come ho iniziato ad utilizzarle allora nasce tutto da quest'estate in cui praticamente io stavo cercando delle ciabatte estive vado alla mia mansarda, vado a cercare, a frugare un po' in giro trovo un armadietto in un angolino apro lo stipetto dell'armadietto o lanza dell'armadietto come volete chiamarlo e vedo questo ho detto cos'è sta roba qua la apro e trovo un sacco di materiale fotografico tutto quanto questo materiale era di mio padre non mi ha mai detto nulla, lui sa che è la mia passione quella dell'audio e del video e mi ha detto ma è tutta roba vecchia non pensavo ti interessasse vecchia e comunque ci sono anche delle cosine un po' interessanti allora delle cose un pochettino strane vi faccio vedere ho trovato questa videocamera della Sankyo è una videocamera molto strana il manico viene giù e si tiene come una pistola si guarda da questa parte di qua ha un obiettivo fisso un fisso zoom 12-24 mm quindi un'escursione molto piccola e una lente molto luminosa 1.2 Japan ovviamente e la cosa interessante è che non ci sono le solite pellicole ma c'è questo sportellino e vedete che c'è un super potto cartridge qui dentro c'è il film quindi ma è fatto così a scatoletta e qui dietro c'è il film ovviamente adesso è stato tutto quanto sovraesposto ma chissà cosa c'è qua dentro davvero molto molto strana io non le avevo mai viste poi altre cose un pochettino più recenti una macchina fotografica normalissima a carica in questo modo della conica qui arriviamo nel reparto fotocamere non so perché una volta si utilizzavano queste fotocamere con la custodia integrata praticamente che rendevano più brutta la fotocamera però ovviamente proteggevano molto di più adesso ve la vado a togliere per farvela vedere meglio questa è una Comet NK 135 come vedete è molto molto semplice ovviamente questa non funziona perché non si carica neanche tanto bene con un obiettivo anch'esso fisso è un 50 mm 2.8 poi abbiamo due fotocamere interessanti allora una è una Miranda è davvero molto molto carina molto bella molto in stile vintage l'interno in velluto bordeaux il problema di questa fotocamera è che non funziona è semplicemente non funziona perché si scatta non sempre a volte si inceppa un po' è un pochettino da far vedere ma soprattutto l'obiettivo vabbè che l'obiettivo si può intercambiare è un obiettivo ML che abbia l'apertura qua con le ghiere ma purtroppo non si apre più neanche si apre quando vai a scattare però è davvero molto molto carina si potrebbe mettere a posto però diciamo che non ne vale neanche la pena una Miranda Sensomat RE poi c'è questa Yashica questa invece funziona è una Yashica FX3 Super 2000 come vedete non c'è l'obiettivo perché l'ho fregato quello funziona molto molto bene ho trovato questi due obiettivi vintage sono tutti i due obiettivi che hanno il mount Yashica quindi ML mount è un obiettivo è 50 mm 1.9 quindi davvero ottimo molto luminoso e l'altro è un 28 mm 2.8 arriviamo al perché utilizzare obiettivi vintage allora gli obiettivi vintage o anche obiettivi manuali non per forza vintage ma comunque un po' più vecchi hanno la particolarità di avere un look particolare donano una colorazione un po' diversa al vostro footage quindi al vostro girato quindi se riuscite a trovare una lente vintage che vi convince particolarmente che era molto famosa una volta che magari dava una particolarità di colore, di sfumato o come metteva a fuoco io vi consiglio di prenderla perché, perché vediamo al secondo punto le lenti cosiddette vintage costano molto molto poco perché? perché sono totalmente manuali e qui arriviamo al terzo punto questa caratteristica delle lenti che sono manuali da una parte è un po' un difetto quindi un problema per chi non è abituato a mettere a fuoco manualmente e dall'altro canto però appunto sono molto più economiche perché non hanno tutta la parte di elettronica interna per poter mettere a fuoco per poter scegliere l'apertura eccetera eccetera quindi è tutto completamente manuale a me piace avere un casino questo obiettivo perché è morbidissimo cioè con un dito riuscite a muovere la messa a fuoco perché questo ovviamente è manuale questo qua invece è marchiato Tokina che ha comunque il mount ML Yashica questo è un pochettino più duro da andare a muovere ha un'escursione anche molto più bassa perché è un 28mm questo invece è morbidissimo ed è infatti la mia lente preferita soprattutto per i B-roll riusciamo ad ottenere davvero un girato molto molto cristallino molto a fuoco perché essendo 1.9 di apertura riusciamo davvero ad andare a mettere a fuoco delle piccolissime parti rispetto a tutto il resto e riusciamo ad ottenere anche un ottimissimo effetto bokeh invece il 28mm 2.8 è una lente standard con apertura 2.8 quindi anch'essa standard otteniamo dei filmati decenti possiamo diciamo utilizzarlo anche come lente primaria un altro pro delle lenti vintage è che sono molto leggere non avendo nessuna parte elettronica interna quindi sarà molto facile montarlo magari sul vostro gimbal senza aumentare troppo i pesi e senza avere troppo sbilanciamento essendo anche solitamente molto piccole e molto contenute come dimensioni ovviamente quando li utilizzate nel vostro gimbal o comunque nel vostro rig cinematografico dovete tenere conto che dovete utilizzare un follow focus io ad esempio nel mio Ronin S vi faccio vedere qua pesantuccio questo è il mio Ronin S in questo caso vedete che ho la mia Blackmagic BMPC quindi la production camera 4K in questo caso ho una lente Samyang non è vintage e vedete che qua c'è il mio follow focus non sto utilizzando il follow focus del Ronin proprio quello di proprietà ce l'ho ma non lo utilizzo perché semplicemente quello va a comunicare soltanto con una videocamera diciamo che abbia l'autofocus e che sia compatibile ovviamente la Blackmagic cinema camera non è compatibile e quindi è tutta quanta completamente manuale non c'è l'autofocus ho il follow focus tilta nucleus n e qui ho un wireless follow focus davvero molto molto grosso molto molto ampio si può calibrare a seconda della lente che noi abbiamo quindi si va a calibrare a seconda dell'esclusione di ogni lente davvero molto molto comodo e quindi con queste lenti che sono vintage sono completamente manuali quando andiamo a montarlo qua sopra ovviamente quello che ci serve è il ring del follow focus che è esattamente questo qua si andrà ad attaccare il follow focus su questo ring sono rimasto piacevolmente sorpreso appunto da queste due lenti vintage soprattutto quella 50 mm f1.9 perché comunque ho notato che danno una colorazione differente ai miei girati anche quando li giro qua internamente uso una latta particolare per la mia lente principale che sto utilizzando in questo momento è un 24 mm t1.5 della Samyang obiettivo cinema invece per i miei b-roll quando li vado ad utilizzare soprattutto questo 50 mm utilizzo una latta particolare oppure utilizzo la stessa latta ma vado ad aggiustare un po' dà una colorazione un po' giallo-verde un pochettino e quindi ha un look un pochettino più vintage un pochettino più seppia leggero leggero non è una cosa molto enfatizzata però un pochettino si nota e quindi vado a correggerlo ovviamente molte volte le lenti vintage che voi andate a comprare che potete trovare su ebay su subito.it dove volete voi o marchettini comunque dell'usato hanno dei mount particolari come questi a un ml mount quindi molte volte non trovate i mount che ci sono oggi quindi EF FS Z eccetera eccetera trovate dei mount particolari quindi che cosa dovete fare dovete acquistare un adattatore e per fortuna le lenti vintage sono manuali come vi ho detto quindi gli adattatori costano molto poco come questo qui questo è un adattatore CYAOS quindi è un adattatore Yashica o ML mount potete chiamarlo a Canon EFEOS quindi praticamente quello che va a fare va a cambiargli soltanto il mount soltanto l'adattatore questo perché essendo una lente manuale non ha bisogno di altre cose se fosse stata una lente automatica in quel caso dovete trovare degli adattatori che hanno anche la parte elettronica per mantenere comunque tutte le parti elettroniche del vostro obiettivo se volete se no potete utilizzare anche questo ovviamente costano molto di più perché ci sono tutte quante le parti elettroniche all'interno ed è anche molto molto più grosso vi lascio il link in descrizione di un venditore di Amazon che vende tutti quanti possibili tipi di adattatori per lenti quindi se ne avete bisogno li potete sbizzarrirvi io l'ho comprato da lì e del marchio KNF Concept davvero ottimo funziona benissimo quindi ancora link in descrizione per tutti quanti possibili immaginabili adattatori per lenti ok ragazzi questa era una brevissima chiacchierata su lenti vintage se vi piacciono questi contenuti e se volete che io porti contenuti di questo tipo o altro tipo fatemelo sapere e cercherò di portare dei contenuti sempre più interessanti iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao iscriviti al canale